Terribile incidente in montagna. Michele Zanotti, di 31 anni, è stato travolto da una malanga che lo ha trascinato per 300 metri. Era con un compagno che è rimasto illeso e che ha chiamato immediatamente i soccorsi. A recuperarlo è stato il soccorso alpino valdostano. Ora la prognosi è riservata, riporta fratture multiple in varie parti del corpo ed è attualmente intubato in coma farmacologico all'interno del reparto di rianimazione. È un ragazzo che ama la montagna da sempre, così raccontano gli amici. In casa ha anche una specie di palestra dove si allena seriamente. Non è assolutamente uno sprovveduto. Ed ancora continuano sui social. È forte, ora speriamo solo che si risolva tutto al meglio. L'incidente è accaduto sabato a Monte del Bivacco Rossi e volante.